Buonasera signore e benvenute a come essere una perfetta casalinga moderna. Siamo così fortunate a vivere nel 1954. Fino a poco tempo fa, negli anni 30, le donne dovevano portare in casa carbone e urinare nelle latrine. Per noi ora è più facile. Dobbiamo solo cucinare, tenere la casa come uno specchio, crescere i figli, assicurarci che tutte le bollette sono state pagate, essere sottomesse a nostro marito, essere sempre attreenti, avere sempre il sorriso stampato in faccia e salvare il mondo da quei senza Dio che sono i comunisti. Dio grazie per averci dato il progresso. Ora vediamo subito come ci si deve comportare quando il vostro tesoro torna a casa dal lavoro. Sentirete un amore sono a casa. Questo è il segnale che indica che dovete scrollarvi di dosso tutta la vostra insignificante tristezza e iniziare con il lavoro più bello che esiste al mondo, la casalinga perfetta. Assicuratevi di essere sempre carine quando lui arriva a casa. Non annoiatelo con la vostra giornata o i vostri interessi. Se siete una vera casalinga perfetta, i vostri interessi non combaciano assolutamente con i suoi. Dovreste avere la sua musica preferita come sottofondo ed entrare nella stanza quasi fluttuando. Anzi, se possibile, fluttuate. Baciatelo e mentre lo fate sollevate il piede destro all'indietro. Ricordate, solo le donne comuniste alzano il piede sinistro. Prendetegli la giacca, le scarpe, dategli una comoda, vestaglia da casa, pantofole e una pipa. Domandategli, com'è andata oggi, amore? Mentre appendete la giacca, riponete le scarpe e preparategli il suo cocktail preferito. Se il suo cocktail preferito è il da kiri, vostro marito è gay. Ma ricordate, signore, se mio marito è gay, mi farò i fatti miei, altrimenti ai vicini sembrerà più una lei. E il martedì col giardiniere penserò ai fatti miei. Mentre lui beve, dovete annuire, sorridere, se è il caso. Il tutto mentre gli massaggiate il collo e o i piedi. E ricordate, la perfetta donna di casa riesce a massaggiare collo e piedi contemporaneamente. Dopo 15 minuti precisi, il timer per la cena dovrebbe suonare, indicando che la cena è pronta. Chi ha preparato la cena? Ma voi, stupidine! Ora chiamate tutti a tavola, non fatelo aspettare. Ha avuto una lunga giornata, una giornata molto più impegnativa della vostra. Non parlate durante la cena, non esprimete opinioni o pensieri, lasciate pensare gli uomini. Non lamentatevi mai se beve troppo, se urla, se vi picchia, se sta fuori tutta la notte o se trovate macchia di rossetto sul collo della camicia. Alcune sere potrebbe aver voglia di fare sesso. Cercate di fare stretching quotidianamente in modo da essere più flessibili. Una perfetta casalinga ha sempre un videoporno, un lubrificante, un vibratore enorme, delle bende a portata di mano per i fabbisogni sessuali di suo marito. Una volta che avete finito col sesso, fatevi una doccia per eliminare l'odore. E poi è di nuovo il momento di preparare il pranzo per l'indomani, ripulire la casa, aiutare i bambini a fare i compiti e controllare che i vestiti di vostro marito sono pronti per il giorno dopo. Fatto? Ok, ora potete andare a letto, ma non mettetevi troppo comode. Dovete essere pronte se qualcuno entra in casa nel ben mezzo della notte. Se succede, mettetevi davanti a vostro marito, così potrete incassare il colpo al posto suo. Se sopravvivete, congratulazioni! Il vostro obiettivo era ed è rendere felice la vostra famiglia e per farlo dovete annullare voi stesse. Ci siete riuscite? Brave! Bene, ora dovete ricominciare da capo.